Buongiorno. Buongiorno. Le uova le vuoi stracazzate o fredde? No. Non lo so, è uguale. Stracazzate. Come? Bene. Anch'io le voglio stracazzate. È bello fare colazione ogni tanto senza bambini, vero? Ho pensato che volessi una buona colazione, visto che oggi è un giorno importante, no? Non è oggi che hai la riunione con Pollock? Ah, sì, sì, esatto, sì. Che bello. Immagino che lo sia, soprattutto per loro. Cosa credi che ti faranno fare in questo nuovo lavoro? Non me ne hai mai parlato. No. Beh, io credo sia legato al fatto che la Knox si prepara a comprare un nuovo grande computer, più potente anche del 500. Sei sicura che non ti ho mai parlato? No, però puoi farlo adesso. Ok. Beh, in pratica è un percolatore molto grande, molto veloce, soltanto che al posto delle parti meccaniche ha migliaia di cellule termoioniche. Capisco. O almeno credo di capire. È molto interessante, però. Sì, sì, credo. Mi immagino che sia solo. No, ecco. Devi credere in te stesso. È importante. È evidente che sei bravissimo a farlo, no? Ascolta, Bill. È meglio che vada. È stato molto bello. È stata veramente una bella collezione. Mi ricordo di aver fatto una collezione così bella. Sì, anche per me è stato bello. Allora non mi vuoi? Sì, buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.